Nella prima parte parleremo del terzo e conclusivo volume dell'Atlante Linguistico Istro-Veneto dell'Istria Nord-Occidentale, curato da Susanna Todorovic, che è autrice appunto, docente universitaria presso l'Ateneo del Litorale di Capodistria. Abbiamo sentito Susanna Todorovic, palazzo Gravisi-Buttorai, sede della comunità degli italiani Santorio-Santorio di Capodistria, e con lei abbiamo sfogliato in maniera del tutto virtuale questo suo importante studio, un importante studio che concluderà la prima parte perché nella seconda parte parleremo di un romanzo storico, lo ha scritto Salvatore d'Incerto Padre e si intitola Esuli da Pola a Latina. Ma iniziamo subito questo nostro appuntamento della domenica con il terzo e conclusivo volume dell'Atlante Linguistico Istro-Veneto dell'Istria Nord-Occidentale. Susanna Todorovic, volume bilingui italiano e sloveno? Perché? L'indagine è collocata nel territorio bilingue italo-sloveno, dunque nella parte costiera dell'Istria slovena, a Pirano, Capodistria, Sicciole e in altre località dove vengono adoperate sia la lingua slovena che la lingua italiana, ma anche per una forma di rispetto. Volevo ovviamente avvicinare la ricerca sia ai ricercatori sloveni che a quelli italiani, ma anche agli istriani di origine slovena e agli istriani di origine italiana. Noi parliamo oggi del terzo e conclusivo volume dell'Atlante Linguistico Istro-Veneto dell'Istria Nord-Occidentale. Ce ne sono stati due ovviamente precedentemente. A questo di che cosa si è trattato e soprattutto quali sono stati anche i campi semantici? Nel primo volume uscito nel 2019 ha illustrato il lessico istroveneto concernente ai fenomeni atmosferici, la configurazione del terreno, le tradizioni di istituzioni e infine il corpo e le matie. La seconda monografia, uscita nel 2020, si configura come proseguio del primo Atlante. Nel tomo sono presentate espressioni tratte dai seguenti quattro campi semantici, dunque aggettivi numerali e descrittivi, lo scorrere del tempo e calendario, la vita matrimonio e famiglia, casa e podere. Il terzo volume, uscito dieci giorni fa, dunque nel 2022, offre una rappresentazione cartografica del materiale lessicale relativo a vestiari e accessori, cibi e bevande, sentimenti ed emozioni, olivi, cultura e torchiatura, pollame, verdura, frutti, albero da frutto e altre piante, e poi infine anche animali e insetti. Come dicevamo già da studio, un ringraziamento va ovviamente all'Unione Italiana, la casa editrice Libris, che ha permesso la pubblicazione di questi, che sono dei veri e propri tomi, che sono dei volumi importanti. L'Unione Italiana ha creduto in questo tuo studio, fin dall'inizio? L'Unione Italiana certo ha creduto in questo progetto triennale, in questa triologia, se posso definirla così, un ringraziamento particolare va soprattutto a Maurizio Tremul, che ha colto sempre, con grande piacere, tutte le mie idee, tutte le mie ricerche, inclusa questa, di tipo geolinguistico, se vogliamo. Quando parliamo di territori, parliamo di quest'ultimo, Atlante Linguistico Istro-Veneto, dell'Istria Nord-Occidentale. Ecco, qual è il perimetro geografico che è stato preso in esame? Allora, la rete dei punti di inchiesta, accuratamente studiata nella fase embrionale del progetto, è coerente con quello che è stato individuato come l'Areale Linguistico Istro-Veneto. Dunque, 12 sono i punti di inchiesta indicati sulle carte linguistiche, due dei quali ricadono al di fuori dei confini sloveni, Bui e Muggia, rispettivamente in Croazia, ovviamente in Italia. La rete consta di nove punti di inchiesta Istro-Veneti e tre Istro-Sloveni, indicati qui in base alla loro posizione geografica, procedendo dal nord verso sud. Dunque, Muggia, dialetto Istro-Veneto, Crevatini, dialetto Istro-Veneto, poi Capodistria, Bertocchi, quel dialetto Istro-Sloveno e Istro-Veneto, dunque Bertocchi scelto come un punto di controllo in questa indagine, Isola, poi Pirano, Strugnano, Sarredo come un punto di controllo Istro-Sloveno, poi ancora Sicciole e Dragonia e Buie. Allora, quante espressioni dialettari sono state raccolte in questo studio? Le espressioni sono state acquisite interrogando dei parlanti di dialetto Istro-Veneto, residenti dunque a Muggia, Crevatini, Capodistri e altre località indicate prima. Il materiale, costituito nel complesso da oltre 20.000 espressioni dialettali, viene illustrato in 1.500 carte linguistiche, ordinate in base ai campi semantici che abbiamo menzionato prima, in tutto i tre volumi hanno 2.100 pagine. Quindi fonti orali, ma non solo fonti orali, anche fonti documentali sono state importanti o esclusivamente la parlata degli abitanti di queste zone che tu hai citato? Esclusivamente dai deleotofoni, dai parlanti che adoperano quotidianamente il dialetto Istro-Veneto, hanno collaborato a questa ricerca più di 100 informatori. Noi abbiamo parlato prima di una suddivisione importante in campi semantici. Possiamo fare qualche esempio per i nostri ascoltatori di questi campi semantici che sono raccolti in quest'ultimo, in terzo e conclusivo volume dell'Atlante Linguistico Istro-Veneto dell'Istria Nord-Occidentale. Noi peraltro anche ricordiamo a chi ci sta ascoltando in questo momento che dobbiamo ringraziare il Presidente della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria, Mario Steffè, perché ci dà l'opportunità di effettuare appunto questa intervista all'autrice, Susanna Todorovic, lo ricordo che è l'autrice del volume, ma è docente universitario dell'Università del Litorale di Capodistria, dicevo prima, ci permette di effettuare questa registrazione. Dicevo prima, appunto, della suddivisione nei campi semantici, sono tanti, importanti, ci danno l'opportunità di capire e di comprendere questo territorio. Ecco, dicevo prima, possiamo fare qualche esempio? Ecco, all'interno del campo semantico, sentimenti ed emozioni, una bella espressione avaro, dunque l'espressione per la quale sono stati chiesti agli informatori equivalenti dialettali, ad esempio a Pirano ho scritto Lucon, Tegnoso, Spilorso e Caia, a Strugnano, Tegnoso e Tirchio, a Muggia, Tira e Sparagnin, a Isola, Strento, a Capodistria, oltre al Tira, anche Tegnoso e Tegna, a Bertocchi, in entrambi i gruppi dialettali, dunque sia nel dialetto sloveno che in quello italiano, dunque Tegnoso, a Sarredo, una variante dialettale istro-slovena Stischnien, dunque stretto, a Sicciole, Tignoso e Spilorso e poi anche a Buie alcune espressioni molto interessanti come ad esempio Rampignon, Spilorso. Ecco, volendo proprio proseguire in altri esempi, si diceva prima che c'è una suddivisione in campi semantici molto molto chiara, si parla anche di agricoltura, si parla insomma della vita delle persone declinata attraverso questi campi semantici che sono paradossalmente diversi rispetto anche a 500-600 metri da paese a paese e che Susanna Todorovic ha voluto raccogliere in questi tre volumi, lo ricordo l'ultimo volume conclusivo, Atlante linguistico istro-veneto dell'Istria nord-occidentale. Ecco, la ricerca riflette lo stato attuale delle parlate istro-veneto, l'intento dunque non era forse solo quello di racchiudere in un'opera espressioni che non esistono più forse da qualche vago ricordo di un formatore un po' più anziano, ma di realmente inquadrare lo stato attuale del dialetto. Un'espressione ancora attuale per esempio nell'ambito del campo semantico del pollame, per esempio la frase, perché la ricerca dunque non racchiude solo le singole espressioni, dunque i singoli lessemi, ma anche intere frasi. E per la frase italiana, la galina porta i frasconi, ho registrato alcune frasi molto interessanti in dialetto. Per esempio a Pirano la fa la pelissa, a Isolo la fa la cioppa, poi a Bertocchi la galina la fa il capotto a buia, la galina sotta e così via. Beh, estremamente interessante, veramente interessante. Tra l'altro sfogliando proprio questo Atlante non c'è soltanto un mero elenco, diciamo così, di espressioni dialettali, ma c'è proprio una carta topografica che aiuta il lettore a capire e comprendere dove sono situate le località prese in esame da Susanna Todorovic e soprattutto è, come dire, allegato a questo, legato a questo, meglio, proprio per quanto concerne i termini, i termini che sono importanti da paese a paese. Possiamo fare ancora qualche esempio, perché sono esempi estremamente interessanti. Io penso che a casa o a chi ci sta ascoltando o ha scaricato questa nostra trasmissione dal podcast, dal sito sedefwg.rai.it, al di là dell'importanza scientifica, perché questo dobbiamo sottolinearlo, l'importanza scientifica di questo studio, è anche importante sentire dalla viva voce di Susanna Todorovic anche i termini che lei ha trovato sul territorio. Ecco, un'altra espressione interessante nell'ambito dell'olivicultura e della torchiatura, il proprietario del torchio, ad esempio a Pirano, Paron del Torcio, Torciaro e persino Zupan, a Strugnano, al Tresisu, Pane, Paron del Torcio, a Isola per esempio Torcer, anche a Mugia Torcer e le espressioni slovene nei due punti di inchiesta, dunque di controllo, Torclar e Torclar. Ma, Susanna Todorovic, come si è svolta la ricerca? Perché io immagino che ci sia stata della ritrosia da parte delle persone, soprattutto più anziane, nell'accoglierti a casa, nel aprirti la porta di casa e di conseguenza anche aprire poi il loro cuore, perché quando parliamo di termini dialettali è la lingua dell'anima, la potremmo definire così. Per fortuna ho incontrato persone molto disponibili che mi hanno accolta nel loro caso e con le quali ho potuto collaborare. È importante sottolineare che in tutti i punti di inchiesta ho fatto almeno sette indagini, dunque sette ricerche, dunque tutto il questionario con almeno sette persone in ogni località. Dunque non ho lavorato solo con un informatore, per esempio solo un sicciolano oppure solo un strugnanoto oppure cavresano, ma nella ricerca hanno collaborato più persone della stessa località. Quindi uno spettro molto ampio, potremmo definire così, anche per capire magari se c'è una differenza anche tra giardino e giardino di casa, come si suol dire. Certo, per capire se non si tratta solo di dioletto, per esempio di una varietà tipica solo di una persona, ma se si tratta di una caratteristica locale. Una caratteristica locale importante che viene raccolta, come dicevo prima, nel terzo e conclusivo volume dell'Atlante linguistico Istro-Veneto dell'Istria occidentale, i nostri amici ascoltatori a casa avranno sentito molto spesso Istro-Sloveno. Allora esiste un confine tra Istro-Veneto e Istro-Sloveno? Certo, esiste un confine anche se nelle ricerche precedenti non è stato delimitato. In alcune zone dell'Istria slovena gli autoctoni adoperano solamente il dialetto Istro-Veneto. In altre località, soprattutto nei paesi all'interno di Capodistria, Isola e Pirano, invece gli istriani di origine slovena o slava adoperano solamente il dialetto Istro-Sloveno e prima di procedere con una ricerca sul campo ovviamente ho formato una cartina linguistica appropriata nella quale ho inserito punti di inchiesta Istro-Sloveni e Istro-Veneti. Ma esiste all'interno di questa pubblicazione proprio una sezione particolare dedicata all'analisi dei vocaboli Istro-Sloveni? Esiste una sezione dell'Atlante dedicata all'analisi di parole e sintagmi Istro-Sloveni tratti dal campo semantico vestiario ed accessori che si pongono a testimonianza delle plurisecolari commistioni tra i due dialetti istriani, da un lato appunto l'Istro-Slovene e da un altro lato l'Istro-Veneto e nel corso della storia l'Istro-Veneto e il dialetto Istro-Sloveno sono stati sempre in contatto seppure l'influenza esercitata l'uno sull'altro non sia stata di pari peso a causa del loro status sociolinguistico. A fronte infatti dell'uso relativamente sporadico dell'italiano letterario l'idioma cittadino di matrice romanza rappresentò fino alla fine della seconda guerra mondiale la principale lingua dell'Istria anche per molti abitanti dell'entroterra che pur coltivando nei loro paesini la parlata slovena negli scambi con la popolazione urbana si esprimevano solo in Istro-Veneto. Io ricordo che si fosse sintonizzato solo ora sulle nostre frequenze che questa parte di sconfinamenti è dedicata al terzo e conclusivo volume dell'atlante linguistico Istro-Veneto dell'Istria nord-occidentale grazie all'Unione italiana e la casa editrice Libris che hanno creduto nel progetto e nello studio, nell'opera di Susanna Todorvic che è l'autrice, lo ricordo docente universitaria presso l'Ateneo del litorale di Capodistria e ovviamente i nostri ringraziamenti vanno al Presidente della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria Mario Steffè che ci ospita nella sede qui a Palazzo Garvisi Butorai proprio per effettuare questa registrazione. Si diceva prima di una sezione particolare all'interno di questo volume dedicata all'analisi dei vocaboli istro-sloveni, possiamo fare qualche esempio di vocabolo istro-sloveno per chi ci sta ascoltando? È possibile farlo attraverso proprio questo volume, prendendolo in mano, sfogliandolo, trovando ovviamente sempre le cartine che sono da corredo e ci aiutano a capire e a comprendere la sua divisione anche territoriale? Ecco, in questo Atlante possiamo trovare tantissimi romanismi, vengono definiti come romanismi le espressioni romanze presenti nel dialetto istro-sloveno, ad esempio nell'ambito dei sentimenti ed emozioni per l'espressione geloso, nei punti istro-veneti abbiamo geloso e altre espressioni contigue, espressione che si presenta anche nella parte slovena dell'Istria, dunque nelle parlate istro-slovene, per esempio a Bertocchi geloso, a Saredo gelos e anche a Dragonia gelos. Poi un'altra espressione molto interessante, altresì nell'ambito dei sentimenti e delle emozioni, avere ragione, avere ragione per il bertossano istro-veneto, però per la variante slovena, del dialetto sloveno a Bertocchi, i emet ragion, un nesso ibrido contenente una parola romanza. Poi forse un'espressione che non è stata colta nel dialetto istro-sloveno, per dimenticare abbiamo posabit, dunque da posabiti dimenticare. E poi per esempio per l'espressione disgrazia invece abbiamo ancora una volta un romanismo e tutte le parlate slovene del territorio conoscono l'espressione disgrazia. Quindi possiamo anche parlare di una contaminazione tra istro-veneto e istro-sloveno? Possiamo certamente parlare dell'influsso che l'istro-veneto aveva sulle parlate istriane e slovene da una ricerca che ho fatto nell'ambito del mio dottorato di ricerca, è emerso che persino il 40% dei lessemi è di origine romanza, parlo del dialetto istro-sloveno. Viceversa invece se analizziamo attentamente le espressioni slovene nel dialetto istro-veneto troviamo pochissime espressioni di origine slovena nel dialetto istro-veneto. I nostri ascoltatori evidentemente con questa conversazione che noi stiamo effettuando con Susanna Todorovic, lo ricordo, è l'autrice del terzo e conclusivo volume dell'Atlante linguistico istro-veneto dell'Istria nord-occidentale e docente universitario presso l'ateneo del litorale di Capodistria, si saranno chiesti sicuramente perché a questo punto mantenere vivi i dialetti, l'importanza del mantenere vivi i dialetti e anche il ruolo dei parlanti. Importante sottolineare soprattutto che negli anni del secondo dopoguerra che videro l'esodo della stragrande maggioranza della popolazione urbana di origine italiana, il dialetto istro-veneto perse ben il 90% del suo bacino di parlanti e nell'area urbana convive da allora con una moltitudine di lingue e dialetti slavi importati da chi vi si trasferì negli anni successivi, ma è comunque rimasto il principale canale comunicativo della popolazione autoctona. Come del resto ogni altro dialetto, anche l'istro-veneto è andato incontro ad incessanti cambiamenti degli anni 50 del secolo scorso ad oggi. I suoi parlanti hanno infatti abbandonato diverse espressioni legate a uno stile di vita ormai superato, introducendo con una certa abilità nella parlata dialetale neologismi tratti dall'italiano standard che riflettono lo stile di vita odierno. Quanto a lungo invece l'istro-veneto sopravviverà come collante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana e in tal senso come perno delle dinamiche di socializzazione degli italiani residenti in quest'area dipenderà da figli e nipoti dei parlanti di oggi e dal significato e ruolo che vorranno attribuirgli. Quindi è importante anche il futuro del dialetto, soprattutto come trasmissione della memoria, trasmissione delle proprie radici di un territorio. Questo vale ovviamente per i territori presi in esame, ma potremmo estenderlo anche ad un ragionamento molto molto più ampio. E quindi è anche importante la mappatura, come dicevamo prima. Se oggi abbiamo l'opportunità, grazie ai tuoi volumi, a questo atlante linguistico dell'istro-veneto e dell'istria nord-occidentale, questo è l'ultimo volume ovviamente, io mi riferisco a tutti e tre i volumi, è importante anche sottolineare che abbiamo un quadro completo e molto chiaro, una sorta di fotografia diversa rispetto al passato. È vero, le carte linguistiche precedenti stabiliscono infatti che gli istriani dell'estremità sud-occidentale della Slovenia, in particolare delle località litorane, parlano un dialetto di matrice slovena, il che non collima con l'effettivo quadro dialettale dell'area considerata. È sì vero che in alcune località i due dialetti sloveno e italiano sono entrambi presenti, come a Bertocchi e a Dregogna, ma resta comunque il fatto che nella maggior parte della città e dei paesini del litorale, negli anessi, entroterra gli autoctoni parlino esclusivamente in istro-veneto. Noi siamo purtroppo quasi al termine di questo nostro contributo a sconfinamenti dedicato appunto a questo atlante linguistico estro-veneto dell'istria nord-occidentale, il terzo conclusivo volume. Però volevo chiedere all'autrice quanto tempo ha dedicato a tutti questi volumi, a tutti questi tre tomi. Ho dedicato cinque anni di ricerca sul campo, più tre anni per la stesura di tutti i volumi. E paradossalmente a chi sono indirizzati questi volumi, ma soprattutto lo studio? Qual è il lettore che potrebbe prendere in mano questi volumi, aprirli, non sfogliarli, ma leggerli con attenzione per avere anche condizioni di causa di un territorio così particolare? I volumi sono dedicati ai dialettologi, dunque ai dialettologi italiani e ai dialettologi sloveni, ma io lo ribadisco sempre e sottolino sempre, soprattutto agli istriani che vogliono mantenere vivo il dialetto e anche alle generazioni future. Certamente, mantenere le radici attraverso la trattazione di un tema importante, come quello del dialetto dell'istro-veneto, però è altrettanto importante quindi che questo bene, lo chiamo così, diventi un bene acclarato anche a livello istituzionale. È vero, posso dirlo con piacere e con soddisfazione che ho partecipato alla stesura della domanda che l'Unione Italiana ha inoltratto il Museo Etnografico Sloveno, in base alle ricerche avviate precedentemente sul campo, ho definito dunque l'area d'uso del dialetto istro-veneto nella parte slovena dell'Istria, ho presentato poi un quadro generale del bene immateriale, i primi documenti scritti dunque in questo dialetto, i modi della sua trasmissione e le proposte per un'adeguata conservazione. Hanno in seguito valutato poi, al Ministero prima menzionato, al Museo Etnografico, la proprietà della domanda e dei suoi contenuti, che è stato poi confermato anche dal Dipartimento di Dialettologia dell'Accademia Slovena Saso e del Ministero della Cultura Slovena. E quindi, come dire, una grande vittoria per il mantenimento, come si diceva proprio, delle radici e soprattutto anche una sorta di condivisione da parte dello Stato sloveno delle radici di questo territorio. La domanda sarà un po' pleonastica la mia, è ovvio questo. Susanna Todorovic ha in cantiere una prosecuzione degli studi o qualcos'altro? Allora, sto proseguendo attualmente con la stesura della prima grammatica istro-veneta, poi con altri, proseguirò le mie ricerche nell'ambiente, nell'ambito dell'Istria slovena, questa volta con tre altri volumi, tre altri atlanti linguistici, questa volta mi dedicherò alle parlate istro-slovene, dunque alle parlate presenti nell'entroterra istriano, dunque nell'entroterra di Capodistria, Isola e Pirano, ho già scelto una rete di punti d'inchiesta, più di 25 punti, in questi punti d'inchiesta ovviamente, formulati secondo la stessa metodologia con le stesse domande, cercherò di scrivere le equivalenti dialettali per le espressioni contenenti nell'atlanti linguistico. Allora, siamo al termine di questo nostro contributo a sconfinamenti, ricordo che noi abbiamo parlato dell'atlanti linguistico istro-veneto dell'Istria nord-occidentale, i ringraziamenti non sono formali ma veramente sostanziali e di cuore, innanzitutto l'Unione Italiana, che attraverso la casa editrice Libris ha permesso la pubblicazione di questi tre tomi che sono importanti e fondamentali, non soltanto per quanto riguarda il mantenimento dell'istro-veneto ma soprattutto per la conoscenza delle proprie radici. Successivamente poi i nostri ringraziamenti vanno anche a Mario Steffè, che è il presidente della comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria, per averci dato l'opportunità di effettuare questa registrazione qui e per averci dato l'opportunità di approfondire un tema molto ma molto importante. E ovviamente gli ultimi saluti vanno all'autrice Susanna Todorovic, ricordo docente universitaria presso l'Ateneo del Litorale di Capodistria, per tutto il lavoro che ha svolto fino ad oggi e per tutto il lavoro che svolgerà in futuro, per quanto concerne il mantenimento delle radici attraverso ovviamente la lingua, attraverso quella che viene definita la lingua del cuore e della lingua dell'anima, e cioè l'istro-veneto ma anche, dobbiamo ricordarlo, l'istro-sloveno. Susanna Todorovic, grazie veramente di cuore per tutto il lavoro e per essere stata ai nostri microfoni. Grazie mille e grazie dell'invito.